Ladies and gentlemen, Monica, la sola, inimitabile, Simona di Pimp My Pug! Cosimo, allora parlaci un po' della collezione e dell'aspirata che abbiamo vinto. Allora, la collezione è ispirata ad un'eccellenza italiana, la pasta, in contrapposizione con un'eccellenza giapponese, il sushi. Diciamo due alimenti che vanno molto di moda e la moda si sposa bene con Pimp. Bene, bene. Ma l'hai per caso disegnata a stomaco vuoto, quindi? Beh, devo dire che io comunque ho sempre fame. Essendo un'amante sia della pasta che del sushi ho messo insieme queste due mie qualità. Quindi sempre fame proprio come i Carlini, ecco. Infatti vedi che anche oggi l'abbigliamento è abbastanza carlino dipendente. Quindi qualche momento. E' un'amante. E' un'amante. E' un'amante o una. E' un'amante. I piumini sono realizzati in tessuto idrorepellente con un interno in nylon antipioggia e un'ovata perché tutti i prodotti Pimp sono cruelty free cioè non utilizziamo nessun derivato di animali quindi neanche le fiume mentre nella collezione che avete visto quest'anno presentiamo anche il nuovo impermeabile Bubble che è un impermeabile realizzato con una zip nel sottopancia il cappuccio, una asola sulla schiena e quindi la fettorina la potete anche mettere sotto e non solo sopra come per le fiume ovviamente trovate tutti i prodotti che avete visto nella filata sul sito www.pimpmypug.it ciao a tutti